Siamo in viaggio, non vediamo l'ora di arrivare a Pergola Aspettiamo Lorenzo, il signor Fonico e partiamo Come va? Bene, non è apposto Andiamo che siamo in ritardissimo Evviva, una vita in ritardo Alla oggi andiamo in un video No, adesso è un po' Bravissimo È a Cordano È a Cordano Alla oggi andiamo in un video Grazie 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 Grazie